Siamo un'azienda d'acciaio, perché abbiamo una storia lunga oltre 30 anni. Abbiamo un carattere di ferro, perché non abbiamo paura di innovare e di sfidare il futuro con nuove idee. Abbiamo una squadra inossidabile, perché i grandi risultati si raggiungono insieme. Siamo la Tecno Acciai. Un'azienda che opera nei comparti della meccanica, delle costruzioni metalliche e dell'impiantistica industriale, specializzata nella lavorazione e distribuzione di acciai speciali e inossidabili, laminati, fucinati, trafilati, pelati e rettificati. I nostri prodotti raggiungono clienti sempre più esigenti e toccano mercati sempre più lontani. Se ci siamo riusciti, è merito della qualità che guida il nostro lavoro. Dalla ricerca dei migliori fornitori alla scrupolosa assistenza al cliente. Un impianto industriale all'avanguardia, macchinari ad alta tecnologia, un efficiente sistema logistico, controlli lungo tutto il processo industriale. Siamo un'azienda moderna, che investe nell'innovazione e nell'efficienza. Abbiamo innovato i servizi offerti e ampliato la gamma dei prodotti, anche grazie all'acquisizione della CESIP, un'azienda specializzata in prodotti siderurgici. Grazie a tutti. Tutto questo impegno ci ha permesso di ottenere da molti anni importanti certificazioni che attestano la qualità del nostro sistema produttivo e distributivo. Siamo un'azienda d'acciaio e ora sapete perché? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti